La questione del Lab regionale per i minori stranieri non accompagnati nei giorni scorsi ha creato un acceso dibattito tra regione e comuni. La necessità di avere un luogo deputato alla distribuzione dei minori che arrivano clandestinamente sul nostro territorio era stata avanzata da tempo dal Lanci, ma due giorni fa a bocciarla era stata l'assessore al sociale della regione toscana, Serena Spinelli, mandando su tutte le furie due dei più forti sostenitori del progetto, il sindaco di Firenze Nardella e quello di Prato Biffoni. Dopo le prime reazioni i toni si sono abbassati, ma le posizioni sembrano ancora distanti, come si evince dalle parole di questa mattina dell'assessore. Parlando degli hub sui minori, c'è stata un'incomprensione, dice Biffoni? Guardi, blocchiamo questa discussione qua, nel momento in cui ci incontreremo io riproporrò la mia posizione, la discuteremo con gli enti. Quindi lei incontrerà poi Biffoni? Sono a disposizione, come ho già detto nella mia prima incontro, il sindaco Biffoni, il presidente dell'Anci lo sa, quindi non ho intenzione di rilasciare su queste altre dichiarazioni. Proprio il sindaco Biffoni, ospite oggi a Telegram, ha risposto a Spinelli, anche in qualità di presidente dell'Anci Toscana e delegato nazionale per l'immigrazione, annunciando la volontà di incontrarla e di spiegarle il progetto. Ci sono comuni d'Italia che gli tocca mandare i bambini in albergo da Cremona al Friuli Venezia Giulia. Firenze, per rimanere in tema, ha il doppio del carico rispetto ai progetti che ci sono. Così non ci si fa. Ma lo dico nell'interesse dei bambini prima. Allora c'è bisogno di un hub, di un hub che non è il centro di accoglienza, non è il caso, è una casa famiglia, questo è l'esempio che mi viene più vicino, che si fa carico con un personale specializzato, accogliente, formato, subito di questi ragazzi, che io alle quattro e mezzo la mattina li possa accompagnare lì dove li affido a persone che sanno quello che c'è da fare in fronte di questi ragazzi e li tengano lì, gli facciano subito le cure mediche, psicologiche, gli diano subito quell'impatto che serve perché loro si sentano subito a casa e poi dal giorno dopo si vede se quei due bimbi, quei due ragazzi, in base alle loro caratteristiche, necessità, età, eccetera, eccetera, non solo si inizia a cercare i parenti se ci sono, ma gli si fa tutti i controlli medici del caso, gli si costruisce il loro percorso anche diciamo documentale di tutto quello che serve, ma soprattutto si guardano i progetti che ci sono a Prata, a Firenze, a Grosseta, a Lucca, a Livorno e si sceglie quello che è meglio per loro e lì si accompagna. Parliamo di questo modello e vediamo, diciamo se c'è un'idea più intelligente ci confronteremo, però quello che dico è questa struttura serve, se no noi non ce la facciamo. Un dibattito che ha anche un risvolto politico tutto interno alle forze di centro-sinistra che sul tema immigrazione fino ad oggi hanno spesso faticato a trovare una sintesi.